Drammatico incidente sul lavoro nella giornata di ieri all'interno di un vivaio incontra da l'acqua tra i comuni di Termevigliatore e Rodimidici a perdere la vita mia a Iredio, 40 anni artigiano di origine romena che dal 2008 era residente a Mazzara Sant'Andrea. Tutto sarebbe accaduto intorno alle 9 di ieri mattina quando il quarantenne, titolare di una ditta individuale, mentre stava effettuando alcuni lavori all'interno di una serra per cause e con modalità in corso di accertamento, sarebbe entrato in contatto con un cavo elettrico ricevendo una scarica fatale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma i soccorsi sarebbero stati vani. Oltre agli operatori di primo soccorso sono quindi intervenuti i carabinieri della locale stazione della compagnia barcellonese guidati dal capitano Lorenzo Galizia a cui sono state affidate le indagini e i tecnici dello Spresal, il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento Strutturale di Prevenzione dell'ASP di Messina per gli accertamenti del caso. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto, come da prassi, per chiarire quanto accaduto ha infatti aperto un fascicolo affidato al sostituto procuratore Luca Gorgone. La Salma si trova ora all'obitorio dell'ospedale Barone Romeo di Patti a disposizione dell'autorità giudiziaria che con ogni probabilità disporrà l'esame autoptico, mentre il cantiere è stato posto sotto sequestro. Mia Iredio avrebbe compiuto 41 anni il prossimo 24 agosto, lascia la moglie e tre figli. Da gennaio 2008 viveva a Mazzarrà, dove si era perfettamente integrato insieme a tutta la sua splendida famiglia, con tanti sacrifici, comportandosi sempre in maniera lineare e dispensando sorrisi ai compaesani, spiega in una nota di cordoglio pubblicata via social l'amministrazione comunale di Mazzarrà Sant'Andrea. Lavorava con grande spirito di sacrificio e buona volontà per non far mancare nulla a casa e proprio mentre compiva il suo dovere di lavoratore e padre di famiglia ha perso la vita. Il sindaco Carmelo Pietrafitta, nell'esprimere a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità mazzarrese i suoi sinceri e profondi sentimenti di cordoglio nei confronti della famiglia, ha poi annunciato che tutte le iniziative previste per il carnevale saranno annullate.